ciao ragazzi e benvenuti oggi farò una simulazione su questa magnifica stampa che rappresenta un fondale come ben notate ho bordato tutto il perimetro con dello scotch in modo da simulare delle pareti la stampa in questione misura 40 x 50 cm e vi ricordo inoltre che se la foto di ottima qualità e alta definizione si possono sviluppare misure molto più grandi chiaramente prima di ospitare la stampa sulla base si dovrà fare un trattamento specifico stuccare le varie fughe e dare una mano di primer sempre con la resina ed equarsi il pavimento deve essere assolutamente liscio in modo che l'adesivo possa aderire bene ok ora andrò a fare una colata di resina bicomponente per questo campione ne metterò 240 grammi 150 di resina e 90 di resina b essendo autolivellante lei si aprirà fino a raggiungere tutta la bordatura ok ecco 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 bene ragazzi dopo aver atteso 12 ore il campione finalmente asciutto con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial ciao da Enzo Colapinto ciao a tutti